Michele col campo basso si è rivisto un San Nicolò in palla, tonico, superato il periodo di difficoltà dovuto alla lunga sosta forzata? Sì, speriamo di sì. Finalmente è una partita da San Nicolò, una partita dove abbiamo giocato molto bene, poteva finire molto più largamente la partita per le occasioni create e dobbiamo continuare così, allenarci bene e tornare ad essere il San Nicolò che eravamo prima con tanto sacrificio e tanto impegno da parte tutta la squadra. Quel periodo di appannamento di cui parlavo prima è stato dovuto solo a quel periodo di inattività o ci sono stati magari anche altri motivi, un calo di forma per altre situazioni? È stato un periodo un po' difficile, non giocare per 40 giorni è comunque dura, poi avevi subito uno scontro diretto contro la Fermana dove sono stati molto molto più brillanti di noi, soprattutto la prima mezz'ora dove la partita è finita lì 3-0 e quindi noi piano piano stiamo cercando di uscire da questo momento difficile perché poi anche psicologicamente la squadra ne risente e abbiamo subito avuto un altro scontro diretto con la Vispesaro, poi la Matelica è andata bene e piano piano stiamo tornando. Guardiamo un attimo la classifica, la Fermana pare essere scappata via ormai, l'obiettivo raggiungibile però è il secondo posto, puntate a quello? Certo, l'obiettivo raggiungibile è quello più in alto possibile, noi ce la mettiamo tutta per fare più punti possibili e per arrivare più in alto possibile poi se la classifica sarà dalla nostra, un po' di fortuna perché anche l'alte comunque se tu devi arrivare sopra le altre, l'alte torna a perdere punti e tu devi farli quindi adesso vediamo partita dopo partita e vediamo dove possiamo arrivare. E la prossima sarà uno scontro diretto perché la San Maurese squadra è comunque la possibilità di raggiungere i playoff, che gara ti aspetti? Sicuramente è una gara difficile perché loro sono una squadra molto, a me ha fatto un'ottima impressione all'andata, una squadra molto quadrata, non prende mai goleate è una squadra che se la gioca bene e se la gioca con tutti e sicuramente sarà partita molto difficile in casa loro perché ricordo anche all'andata abbiamo vinto ma con un gran gol di Traini e quindi sarà una battaglia, una battaglia come tutte le altre perché poi ci sono le altre che devono salvarsi e quindi è tutto alla stessa maniera, col cortello fra i denti e fare il meglio possibile.